Ehm... sono vegana. Eh sì, ma i serpenti non sono vegani. Tu sei vegana, ma la serpente no. Comunque, partiamo, partiamo e vediamo un attimino queste tecniche manipolative, insomma, come difendersi, questa psicologia oscura. Intanto che cos'è la psicologia oscura in generale, no? Beh, diciamo che la tipologia oscura, le tipologie oscure sono tipologie estremamente manipolative. Non sono soltanto narcisiste, perché nella tipologia oscura troviamo comunque sicuramente i narcisisti, ma anche troviamo però i cinici, cinici e bari. Troviamo i macchiavellici, troviamo anche tutti quelli fuori di melone, gli psicotici, ma in generale i manipolatori, no? Quelli che utilizzano, tutti quelli che utilizzano le strategie, e le tecniche di manipolazione. E quindi dobbiamo imparare a riconoscere, diciamo, la psicologia oscura e le dieci tecniche fondamentali di ossessione psicologica che creano dipendenza, fare attenzione per fare questo. Quindi dobbiamo imparare soprattutto a difenderci. Quindi come avviene la difesa da queste strategie oscure, manipolative, insomma? Come possiamo sviluppare delle difese efficaci? E quali sono le strategie? Allora, la prima tecnica che suggerisco a tutti è proprio, ringraziamo Amore Psiche con la Pink, intanto saluto anche Betty Kotic. Ma quanto sono etiche? Beh, salutiamo anche One Blood. Ecco, quando si parla di eticità, boh, non lo so quanto sono etiche. Diciamo che i narcisisti sono poco etici, sicuramente. Poi l'etica sono tecniche comunicative, non lo so, io credo che è una domanda difficile, diciamo, perché talvolta le persone le mettono in atto inconsapevolmente, talvolta consapevolmente, però noi dobbiamo renderci conto che, come dire, dobbiamo imparare a difenderci, no? Sicuramente, come dire, la guerra etica, beh, non lo so se è una guerra etica, eppure le guerre ci sono sempre state. Ecco, una cosa interessante, uno dice, quanto sono etiche queste tecniche? La guerra è etica? Eh, no, però la guerra c'è sempre stata, quindi il fatto che non sia etica non vuol dire che non ci sia, questo dobbiamo, dobbiamo tenerlo presente, no? Quindi noi dobbiamo difenderci, anche perché, come dire, la comunicazione ipnotica per dire è etica o non è etica? Boh, non lo so io se è etica o no, dipende, tutto può essere, comunque tutte le tecniche, ma la pubblicità è etica o non è etica? Quindi quando si parla di etica è etica è sempre un discorso molto complesso. Eh, comunque, ehm, veniamo al concetto di fondo, no? Allora, quindi noi il primo punto fondamentale è imparare a riconoscerle fondamentalmente, imparare a riconoscere, quindi, ehm, la cosa principale che tu devi fare è quella di riconoscere la manipolazione. Intanto dobbiamo, la consapevolezza è il primo punto, la prima difesa è l'educazione, cioè dobbiamo, e per questo che vi dico, vi suggerisco anche di fare i miei seminari, perché spiego in dettaglio le tecniche, gli imprinting, le cose, quindi questo è importante, no? L'educazione è la prima, educazione nel senso di educere, no? Nel senso di conoscere, impara a riconoscere le diverse tecniche di manipolazione, impara a riconoscere chi ti fa vivere i sensi di colpa, cara malgasciona, impara a riconoscere chi ti lusinga, perché anche la lusinga è una tecnica di manipolazione, no? Una persona che ti lusinga, certo che se tu sei una boccalona che, sei una boccalona che, diciamo, sei una boccalona che accetta tutto, beh, l'obiettivo deve essere etico, dipende, l'obiettivo potrebbe essere un obiettivo emotivo, un obiettivo logico, che ne so, un maschio potrebbe sedurre una donna con l'obiettivo di portarsela a letto, oppure una donna potrebbe sedurre un uomo con l'obiettivo di barbargli la pensione, o un uomo potrebbe sedurre una donna con l'obiettivo di barbargli la pensione, una donna potrebbe sedurre un uomo con l'obiettivo di scrocargli viaggi, vacanze, ricchi premi e cotillon, o un uomo potrebbe sedurre una donna con l'obiettivo di scroccare delle cose. Quindi l'obiettivo, diciamo, è tutto, cioè l'obiettivo normalmente è a trarne un vantaggio fondamentale. Quando usiamo le tecniche di manipolazione, l'obiettivo è sempre quello di trarne un vantaggio, un vantaggio emotivo, un vantaggio pratico, questo è, diciamo, no? Di solito difficilmente l'obiettivo è quello di, come dire, dare un vantaggio all'altra persona, difficilmente. Salutiamo Morena. Quindi obiettivo etico lo vedo duro, insomma, che l'obiettivo potrebbe essere etico. Comunque, in generale, la cosa fondamentale da fare è la consapevolezza. Poi, una volta che, perché non devi, quindi rafforzare te stessa poi fondamentalmente, la seconda cosa da fare è rafforzare te stessa. Perché? Rafforzare te stessa devi capire quali sono i tuoi punti deboli, sia emotivi, sia logico-razionali, perché crollerai lì dove ci sono i punti deboli, no? Come dire, è lo stesso discorso della guerra fondamentalmente, no? Adesso che c'è la guerra, praticamente una guerra in trincea, no? Tra Russia e Ucraina, di appena uno dei due individua un punto debole dell'altra persona, attacca. Perché? Cioè, il discorso che queste strategie, diciamo, queste strategie si manifestano, queste strategie si manifestano quando vogliamo, come dire, quando una persona ha dei punti deboli. Perché, ad esempio, se tu vuoi manipolare un Buddha, praticamente è impossibile, è una persona forte, perché uno dice, eh vabbè, ma si approfitta dei tuoi punti deboli, no? Eh beh, certo, non è che si approfitta dei punti forti, ma pensate alle strategie della guerra, no? Non è che uno in guerra attacca il nemico dove il nemico è più forte, cerca di aggirare le difese. Non so, quello che hanno fatto i tedeschi nella seconda guerra mondiale, ad esempio, con la linea Maginot, i francesi hanno fatto questa linea Maginot fortissima, fortificata, che difendeva i loro confini e i tedeschi cosa hanno fatto? Hanno invaso il Belgio e sono penetrati in Francia dal Belgio dove non c'era nessuna difesa, mentre i francesi avevano difeso con questa linea Maginot fortissima tutti i confini, diciamo, tra Francia e Germania e salutiamo Daniela e se lo sono presi in quel posto, praticamente. Se lo sono presi in quel posto perché i tedeschi li hanno attaccati lì dove c'era il punto debole, che era il confine con il Belgio, perché loro non pensavano. Questi in 448 hanno invaso il Belgio e poi sono entrati in Francia dal Belgio e hanno trovato le vie libere. E questo è un punto fondamentale. Anche un manipolatore, anche un manipolatore, anche una persona, come possiamo dire, narcisista, anche una persona maligna, anche una persona malvagia, ma anche una persona cinica, anche una persona, come dire, machiavellica ti attaccherà nei tuoi punti deboli. Non bisogna mai attaccare nei punti forti la persona. Quindi se una persona è suscettibile alla lusinga, ti farà delle lusinghe. Se una persona è suscettibile al senso di colpa, ti farà il senso di colpa. Una caratteristica fondamentale però di tutte queste tecniche è la negazione della realtà. Quando sei consapevole, diciamo, di queste tattiche, starai attento al fatto che non venga negata la realtà. E il primo punto fondamentale è mantenere la calma. Cioè le persone manipolative ti innescano emozioni. Quindi se vuoi sedurre e manipolare qualcuno, devi produrgli delle emozioni. Perché altrimenti, da un punto di vista logico e razionale, non seduci nessuno. Perché per qualunque persona 2 più 2 fa 4 e tutto quello che 2 più 2 gli viene proposto come diverso da 4, lo pigli e lo butta nel cestino. Mentre invece, in preda l'emotività, potresti anche pensare, abbiamo qua presente una ritualista, che 2 più 2 sia un rituale per togliere il malocchio. Perché noi possiamo pensare di tutto, no? Quindi di fatto la parte emotiva è quella che ci fa sognare, no? Quindi fai attenzione a chi ti produce troppe emozioni. Cioè le tue emozioni devi saperle gestire. Questo fa parte delle difese fondamentalmente. Quindi devi mantenere la calma. Ovviamente quando è che è difficile, diciamo così, lasciarsi soprafare delle emozioni? Se tu hai delle insicurezze. Perché le insicurezze sono dei, come dire, dei tarli interni, no? Se tu, ad esempio, vai alla ricerca del grand'amore. Supponiamo una donna che va dalla ricerca del grand'amore. Che non vede l'ora di trovare il grand'amore. Perché magari ha sua madre che gli dice, beh, certo che tu hai già 40 anni, hai già 50 anni sei ancora zitella. Perché poi le madri non vi dicono, o i padri, non vi dicono sei ancora single, cara, cara donna, cara figlia. Non ti dicono sei single, eh brava sei single. No, ti diranno sei zitella, sei zitella. È il tuo desiderio, è il tuo vizio che ti farà accadere. Diceva anche il grande De Gregorio, no? Ogni uomo ha un vizio e anche una donna che lo farà accadere. E questa è la verità. È la verità che ha fatto prendere, diciamo, il bandito, che adesso mi ricordo come si chiama, porca miseria, c'è un vuoto mentale, sante il bandito, sante il bandito, che aveva il punto debole di seguire il campione, no? Girardengo il campione, era un appassionato di ciclismo, che era il suo punto debole, l'hanno arrestato in un arrivo volante. Quindi, quindi la tua madre e il tuo padre ti dirà che sei zitella, cioè hai 40 anni e sei zitella, cioè hai 50 anni e sei una zitella acida, esatto, bravo Vin, ti dirà così. E allora, e poi ti dirà, vedi che tutte le tue amiche si sono sposate, si sono sistemate, hanno già dei figli, hanno un marito, e tu sei l'unica zitella, per dire. E se tu credi a quello che ti dice tua madre, se tu credi a quello che ti dice tua madre, anche se gli dici, ma non rompi i coglioni, eccetera, quel messaggio lì ti renderà debole. Perché il primo che, il primo che ti dirà, il primo che ti dirà, ah ma guarda sei fantastica, io non vedo l'ora di sistemarmi, non vedo l'ora di accasarmi, tu sei una donna speciale, quando ti ho incontrata, quando ti ho incontrata diciamo, mi sono subito coinvolto con te, io non vedo l'ora di sposarti, non vedo l'ora di fare... intanto andiamo al parcheggio del cimitero, vediamoci al parcheggio, iniziamo dal parcheggio del cimitero e poi ci sarà una rapida evoluzione. No, questo non vedo l'ora di sposarti e ti invita al parcheggio del cimitero. E per te quel parcheggio del cimitero è quasi un altare, no? Ti vedi vestita di bianco, salutiamo Margot, ti vedi vestita di bianco e invece, come dire, vedi un altare, vedi un sacco di cose e invece è il parcheggio del cimitero. E quindi... e tu gli dici, insomma, vedi di essere in chiesa e gli dici questo mi sta... pensi che sia il prete che ti mette l'ostia in bocca, pensi che sia il prete che ti mette l'ostia in bocca e poi ti trovi qualcos'altro in bocca, diciamo, che proprio definire l'ostia non si potrebbe, però perché non vorrei essere blasfemo, quindi non vorrei essere tacciato di blasfemia, però diciamo che la cosa che ti trovi in bocca, diciamo, non è l'ostia. Anche se tu, anche se tu hai questa visione angelica dell'ostia, no? Pensi la comunione, pensi il matrimonio, eccetera, eccetera. E quindi, poi una volta che sei andato al parcheggio del cimitero ti dice, sai che c'è? Arrivederci e grazie. Come dire, finita la festa, gabbato lo santo, arrivederci e grazie. E tu resti delusa, ehi tu delusa, come diceva Vasco Rossi, no? Ehi tu delusa e quindi alla fine la storia finisce lì, no? E tu torni a essere zittella e tua madre ti dirà, ecco vedi, tu devi avere qualche difetto, ti dirà la tua madre. Hai preso da tuo padre, e tuo padre ti dirà, hai preso da tua madre, che ha trovato un fesso come me che se l'hai sposata, ma adesso gli uomini sono tutti più furbi, non troverai un altro. Tu sei come tua madre, solo che tua madre ha trovato me che sono un coglione che l'ha sposata, ma era l'unico coglione, si vede, perché adesso altri uomini che sposeranno una cogliona come te non ci sono. E quindi tuo padre, praticamente, dandoti della cogliona, per dire, no? Ti farà ancora, abbasserà ancora di più la tua disistima, e insomma, tra madre e padre, insomma, tua madre ti dirà che sei come suo padre, come tuo padre, tuo padre ti dirà che sei come tua madre, e insomma, tu ti becchi, ti becchi praticamente, ti becchi praticamente, come possiamo dire, i difetti e i vizi comportamentali, sia di tuo padre che di tua madre. Questo è vieni, ti vieni, diciamo, quindi alla fine, quello è il tuo punto debole. Qual era il punto debole di tutta sta pappardella che ho fatto? Il bisogno di sposarsi. Allora, quindi, la regola fondamentale qual è? La regola fondamentale, l'hai presa anche al parcheggio del cimitero, brava, la regola fondamentale qual è? Non avere bisogni. La regola fondamentale è non avere bisogni, né bisogni emotivi, né bisogni economici, né bisogni di nessuna natura, e se c'hai qualche bisogno, sbolognatelo da solo, non devi sperare che un'altra persona risolva i tuoi bisogni. Beh, non è detto, cara Venus, che solo tuo padre e tua madre potrebbero essere tutti duplicati. Ecco, questo, la domanda che ha fatto Venus, che normalmente fa domande, no scherzo, scherzo che poi mi fa mangiare da serpente. Sto per fare la battuta, Venus, ma poi mi fa mangiare da serpente. La battuta era, cara Venus, che di solito fa domande stupide, stavolta ha fatto una domanda intelligente. Ma scherzo, ovviamente, scherzo. Ma tornando al discorso principale, non è solo tuo male e tuo padre, tutti i loro duplicati. Perché noi, cara Venus, abbiamo tutti, abbiamo tutti i duplicati. Ehi, mi vede già topo. Abbiamo già tutti, abbiamo tutti i duplicati praticamente. Non abbiamo solo nostro padre e nostra madre. Cioè, anzi, ti dirò di più, cara Venus, tu, tuo padre e tua madre li salverai sempre. Cioè, tu salverai sempre tuo padre e tua madre. Tu hai il topo massimo, esatto, battezza il topo massimo. Ma il topo massimo, decimo meridio, sconfiggerà il serpente. Sarà il primo topo che schiaccerà la testa del serpente. Stavo dicendo. Questo è un qualcosa che dobbiamo, questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente. Questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente. Dobbiamo tenerlo presente, questo. Perché tu salverai tuo padre e tua madre, non ti renderei conto, ma ci saranno tutti i loro duplicati. Chi sono i duplicati? Beh, i duplicati potrebbero essere i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi cagnolini pure potrebbero darti delle indicazioni. Oppure potrebbero essere, non lo so, se hai, diciamo, delle amiche, degli amici, delle persone con le quali interagisci. Magari un maestro di esoterismo che ti dice, che ne so, ah no, guarda Venus, tu zitella sei, zitella resterai. Tutte le donne che seguono le strade esoteriche restano zitelle. Quindi non è questo, no? Poi però prendo spunto anche da quello che dice Pink. Io non sarei morta se non... ah beh, in pace. Ecco, un'altra cosa interessante. pensate che se voi avete l'ossessione, che è un punto debole anche quello, di avere la necessità di avere l'abito bianco, vi sposereste il primo catramista che ti fa mettere l'abito bianco. Oppure il primo catramista che ti fa mettere l'abito bianco te lo sposi. Perché quello è il tuo punto debole. Dici, ho trovato, c'erano industriali che non mi facciano mettere l'abito bianco, ho trovato un catramista di merda che mi fa mettere l'abito bianco, me lo sposo. E ti sposi quello. Perché la tua ossessione è avere l'abito bianco. Quindi il primo catramista, casa integrato, senza fissa dimora, etilista che ti fa mettere l'abito bianco, te lo sposi. E questo è un altro punto debole. Quindi il nostro punto debole è quello, è la nostra lacuna. E quindi noi dobbiamo riconoscere quelli che sono i nostri punti deboli. Questo vuol dire consapevolezza. Non vuol dire sono consapevole se oggi piove o se oggi c'è il sole. Non vuol dire questo. Vuol dire che siamo consapevoli, siamo consapevoli di quelli, dobbiamo essere consapevoli di quelli che sono i nostri punti deboli. E state attenti che ognuno di noi, ce n'ha uno di punto debole, perché l'imprinting lo viviamo tutti. Quindi ognuno di noi ha un punto debole. Ho due matrimoni alle spalle. Ah, brava Venus. Due matrimoni alle spalle. Porca miseria. Due matrimoni. Accidenti. Qui non ti sei fatta mancare niente. Quindi questo è un punto da tenere presente, un punto fondamentale. Quindi la prima cosa è mantenere la calma. Riconoscere i nostri punti. Consapevolezza significa quello. Riconosci i tuoi punti deboli. Mantieni la calma. E poi una cosa fondamentale è valuta quando incontri una persona se c'è assonanza tra quello che dice e quello che fa. Cioè devi valutare se c'è assonanza tra quello che dice e quello che fa. Questa è la regola. Ma devi farlo con la mente, con la mente, come dire, con la mente fredda, no? Se uno ti promette il grande hotel e poi ti porta al parcheggio il cimitero, beh, evidentemente non è tanto coerente tra quello che dice e quello che fa. Se uno ti dice, non ti preoccupare, lascerò mia moglie. Se uno ti dice, non ti preoccupare, lascerò mia moglie e poi la moglie non la lascia e poi la moglie non la lascia, tieni presente che in qualche modo, come possiamo dire, è morto. Ah, il primo è morto? Porca miseria, mi viene da grattare la testa. C'era anche, come si chiamava, Barba Blu che gli morivano sempre le moglie, non si capiva come mai, no? Vi ricordate la storia di Barba Blu, no? Che c'è, sto qua, gli morivano sempre le moglie, una avvelenata, una in un modo, una nell'altro, gli schiattavano sempre le moglie. Barba Blu anche, morivano sempre le moglie, rimaneva sempre vedovo. E quindi, diciamo, questo è il concetto fondamentale. Poi dobbiamo tenere presente questo punto fondamentale. quindi, è morto era il primo, grande Venus, grande Venus. Comunque dobbiamo tenere presente un po' queste cose, no? E se è il cimitero La Chasse di Parigi? Beh, non lo so, potrebbe essere il cimitero di Parigi, potrebbe essere il cimitero di qualcos'altro, però alla fine è sempre un cimitero, eh. Quindi, detto questo, ma è vero Venus che, no, davvero sei rimasta vedova a Venus o era una battuta? Che io non lo so mica, eh. Se sei rimasta vedova sul cielo o stava una battuta. Comunque, dai, non si sente? Com'è che non si sente? Si sente o non si sente? Comunque, quindi poi devi fidarti anche del tuo intuito, no? Spesso il nostro intuito ci dice quando qualcosa non va. Se senti che qualcosa non va, che non è giusto, c'è qualcuno che sta cercando di manipolarti. Ma cerchiamo un po', quindi, di un'altra cosa interessante sono osservare i cambiamenti di comportamento. Se noti nel tuo comportamento, nella tua autostima, nei tuoi pensieri, che c'è qualcosa che sta cambiando, potrebbe esserci una manipolazione in atto. Come dicevo, analizza le parole e analizza le azioni. Questo è il punto fondamentale. Attenzione alle lusinghe eccessive. Complimenti eccessivi potrebbero essere un segno di manipolazione. Quindi, vediamo un attimino, vediamo, no vabbè, ma non sente Christian perché è sordo. Sì, Christian è sordo. Ah, ma era molto giovane. Ah, ok, non sapevo, Venus. Non lo sapevo, davvero. Non lo sapevo. Comunque, quindi, dobbiamo, dobbiamo tenere, tenere un'altra cosa, quindi fondamentale, è quella proprio di renderci conto. Quindi, una volta che ci rendiamo conto della manipolazione, dobbiamo difenderci. Come facciamo a difenderci? Poi vi spiegherò anche le tecniche. Il primo modo per difenderci è imparare a dire di no. Devi essere sicura di te stessa, dire di no. Quando qualcuno sta cercando di spingi o ti a fare qualcosa che non vuoi fare, dire di no. E stabilisci dei limiti e dei confini sani nelle tue relazioni e mantienile. Non lasciare che gli altri superino i tuoi confini. Devi crearti anche proprio da un punto di vista energetico, una bolla, c'ho degli anni, devi crearti una bolla energetica, come direbbe la nostra Venus, no? Una bolla energetica e tu devi sentirti protetta, devi dire di no. C'è chi dice no, diceva Vasco Rossi. Impara a dire di no. Quando qualcuno ti vuole fare, fare qualcosa che tu non vuoi fare, devi dire di no. Non devi temere a dire di no. Se uno mi dice, vieni al parcheggio del cimitero, no. Vieni a me, se mi dice Massimo fai quello, no. Massimo fai quell'altro, no. Massimo vorresti, no. Cioè, no. Impara a dire di no. Adesso non dico che per principio devi subito dire di no, però diciamo che poi ovviamente le persone vanno conosciute nel tempo, no? bisogna conoscere le persone nel tempo, ma impara a dire di no. Questo è un punto fondamentale. No è una parola che serve. Prova a fare domande critiche, domande spiazzanti. Fai domande che vanno a interrompere lo schema. Un'altra cosa fondamentale, ricordati sempre questo detto, la fretta è cattiva consigliera. La fretta è cattiva consigliera. Non prendere mai decisioni affrettate, né che ci sia l'abito bianco. L'abito bianco, se uno ti sposa, non è che perché, ecco, questa cosa qua, prendendo spunto da quello che ha detto, diciamo, prima Pink, l'abito bianco non è la soluzione ai problemi. Non è che se uno ti sposa, massima e imprescindibile dal mio lavoro, perché da ottimi suggerimenti da seguire in corso di ritualistica. Ah, grazie, grazie. Ma non lo sapevo, Venus. Ma pensa a te. Oh, abbiamo anche il grande Giorgio Cameli. Abbiamo anche Giorgio Cameli. Io lo sapevo che prima o poi si incantava. Abbiamo anche il grande Giorgio Cameli. Spero di non essere incantato, non so da che cosa. Comunque, grande Giorgio, bianco di ciglia al sentiero della felicità. Comunque, quello che stavo dicendo, ah no, sei incantato sul no. Questo è un altro punto fondamentale. L'abito bianco è una puttanata. Non dovete pensare che l'abito bianco serve a qualcosa. L'abito bianco, potete pulirci il cesso con l'abito bianco. Prendete l'abito bianco e pulitevi il cesso con l'abito bianco. Se uno ti dice, ma ti sposo con l'abito bianco, tu dì, io con gli abiti, con gli stracci, ne faccio degli stracci e ci pulisco il cesso con l'abito bianco. Così si vede meglio la merda. Risalta di più col bianco. Perché se pulisci il cesso con l'abito nero, si confonde, si confonde. E quindi non ti rendi conto. Perché non è che devi trovare quello che c'è. Non è che trovare uno che ti sposa ti hai risolto la situazione. Non è che trovare uno che ti sposa ti hai risolto la situazione. Perché molte malgascione qua non vedono l'ora di sposarsi. Anche se sono vecchie decrepite, magari vogliono sposarsi lo stesso. Attenzione. Intanto, come dire, oppure quello che ti dice, lascerò mia moglie e lascerò mia moglie e mi sposerò. Mi stanno telefonando quelli di Roma sposa. Massimo Roma al prossimo raduno. Roma sposa. Però dovete stare attenti, no? Dovete stare. Questa è una manipolazione. La manipolazione del matrimonio. Tra l'altro poi, cara Venus, non so se ci sia ancora, ma sai che c'è la maledizione del prete? Tu sei in grado, Venus, di togliere la maledizione del prete? Venus! Se ci sei, batti un colpo. Sei in grado di togliere la maledizione del prete? Il famoso rito manipolatore del prete. quello che dice, vi dichiaro, marito e moglie. Questa è la più grande manipolazione, il più grande rituale, come dire, a morte. È il rituale, una fattura a morte. Il rituale a morte più grande è quello che fa il prete, che nessuna, neanche nessuna, come si chiamano quelle lì, mamma nera del voodoo, riesce a fare un rituale così potente come quello che fa il prete che ti dice, vi dichiaro, marito e moglie. Quello è la maledizione per eccellenza. E poi dicono che sono i rituali voodoo. Addirittura quando dicono finché morte non vi separi, pure porta pure jella. Ah, sono esperti in rottura. Eh, sì, però a rompere il rituale del prete ci va proprio. Quindi, se volete, speriamo che il rituale di Venus riesca a sconfiggere il rituale del prete, finché morte non vi separi. Porca miseria, vi dichiaro marito e moglie, finché morte non vi separi. La maledizione del prete. Comunque, quindi dovete prestare attenzione. Allora, vediamo quali sono un po'. Allora, quindi, fai domande critiche, la fretta che ti va consigliera. Cerca di scoprire quali sono i turbamenti dell'altra persona. Cerca altre prospettive, no? Magari fai domande agli amici, come se dici, chiedo per un'amica. C'è una mia amica che ha una relazione con uno che gli dice questo, questo e questo, fa questo, quest'altro e quest'altro. Beh, tu potresti, insomma, capire un attimino anche chiedendo altri punti di vista. Perché chiedere altri punti di vista, se li chiediamo noi, serve. Perché ovviamente quando noi siamo nella merda, non è che riusciamo a vedere tanto. Un mio amico non si sposava mai, dice Giorgio Cameli. Il padre un giorno gli disse, ah, ti sposi, ricordati, i primi dieci anni sono brutti, poi ti ci abitui. Eh già, ricordati che i primi dieci anni sono brutti, ma poi ti ci abitui, non te ne rendi più. Eh beh, quindi questo è, questo è, finché la tua morte non ci separi. E questo è anche carino. Finché morte non ti separi. Vabbè, non vedo la chat, ma noi ti vediamo, Venus cartomante, Venus, noi la vediamo la chat. Quindi questo comunque è un altro punto molto importante. E poi, diciamo, devi mantenere l'autostima. Lavora sulla tua autostima, sul tuo senso di autovalutazione. Le persone che hanno una forte autostima sono ovviamente molto meno suscettibili alla manipolazione. E poi, insomma, ecco, queste sono cose da fare. Quindi, tra le varie tecniche di manipolazione, una più subdola, non so se riusciremo a vedere tutte e dieci, ma vi parlo di quella più subdola, è la manipolazione del rinforzo intermittente. La manipolazione del rinforzo intermittente è una tecnica psicologica, di psicologia oscura, ovviamente, che viene utilizzata per influenzare il comportamento di qualcuno attraverso la somministrazione di rinforzi, cioè gratificazioni o ricompense, ma vengono somministrate queste gratificazioni e ricompense in modo irregolare o intermittente. Questa tecnica è stata ampiamente studiata già dal secolo scorso. Ci sono stati, salutiamo Maria, ci sono stati, diciamo, un anno di abbonamento base, ci sono stati, diciamo, un sacco di dimostrazioni, no? Da Skinner, ad esempio, Bandura, che hanno dimostrato ampiamente anche sui topi, proprio parlando di topi, anche parlando di topi, quindi il concetto di fondo è che il rinforzo intermittente è particolarmente efficace, diciamo, intanto è una tecnica che basa, diciamo, utilizzata per ottenere controllo sugli animali, sulle persone, insomma, spingendogli a compiere in modo ossessivo certe azioni o certi comportamenti. È molto efficace perché sfrutta una tendenza naturale, umana, a cercare la gratificazione logica e l'aspettativa delle ricompense. Poi io ho elaborato un'altra mia, salutiamo a Rale, un'altra mia tecnica manipolativa che è ancora più efficace della manipolazione intermittente, ma questa la spiego nei seminari, però, se volete imparare questa, un'evoluzione che ho elaborato recentemente, devo dire che ho elaborato recentemente, quindi è un'elaborazione del 2023, diciamo, che però, siccome una mia elaborazione è nata nel 2023, la voglio riservare a chi farà i seminari, no, non la dico nei seminari, nei seminari, chi farà i seminari e quindi chi farà l'abbonamento base, vi dirò questa evoluzione, che prende spunto, diciamo, utilizza la tecnica della manipolazione intermittente, ma chi farà i seminari la seguirà, parleremo, ricordatemelo, nei seminari, la dirò nei seminari, quindi nei seminari, quindi chi vuole partecipare ai seminari, perché non do un titolo e perché non ne ho voglia, sono pigro, Margot, sono pigro, il titolo sono pigro, però voi seguite, beh, i seminari sono altri argomenti, ma ne parlerò anche nei seminari, ne parlerò anche nei seminari, ovviamente. Eh, lo so, dovresti seguirli sistematicamente, eh, lo so, gli argomenti li do proprio per confondere, per confondere, per farli vedere tutti. Comunque, ehm, il rinforzo intermittente funziona in questo modo, no, è particolarmente efficace perché sfrutta l'anturale tendenza umana a cercare la gratificazione logica e l'aspettativa logica di ricompense, quindi sfrutta le aspettative. Se voi non avete aspettative, non siete manipolabili e le ricompense, siccome non sono garantite, siccome non sono prevedibili, la persona coinvolta, eh, diventa motivata per seguire il comportamento sperando di ottenere il rinforzo e addirittura lo fa in modo ossessivo, come quelli che vanno a giocare ai giochini elettronici, no? Come quelli che vanno a giocare ai giochini elettronici, eh, e quindi continuano a giocare, continuano a giocare, eh, ed è fondamentale. E numerasse le lezioni, qui se non è 100 euro, eh, vabbè, ho capito, però, proprio perché voglio farlo per voi che siete barboni, li faccio pagare solo 9 euro al mese, ma non numero le lezioni, bravo Cristian, eh, questo è un altro punto fondamentale. No, non è una tecnica manipolativa, è che gli faccio pagare solo 9 euro al mese, non è che posso pretendere anche che ogni volta metto un titolo diverso. Eh, un saluto da Antonella, bene, ciao Antonella. Quindi, eh, una volta che entri nell'ossessione e, come dice giustamente, è beticotice, è difficile uscirne. Quindi, vediamo alcune modalità, perché il rinforzo intermittente ce ne sono vari tipi, e adesso vi spiego questi tipi, che comunque sono già 5 tecniche manipolative, eh. Abbiamo il rinforzo intermittente positivo, in cui la persona manipolatoria, diciamo, offre ricompense lusinghe a intervalli regolari, ad esempio, solo quando desidera ottenere qualcosa, fondamentalmente, o solo quando vuole avere una risposta positiva. Poi c'è anche il rinforzo intermittente negativo, e in questo caso le persone manipolatorie, manipolative, smettono di rinforzarti positivamente, quindi automaticamente, eh, ad esempio, smettono di lodarti, perché io non vengo da Lodi per lodarti, io non vengo da Pesaro per pesarti, io non vengo da Sanremo per santificarti, io non vengo da Sanremo per santificarti, io vengo da Chiavari! Abbiamo introdotto, perché mi è venuta in mente la nuova, io non vengo da Sanremo per santificarti, questa è la nuova, quindi abbiamo, non vengo da Pesaro per pesarti, non vengo da Piacenza per piacerti, non vengo da Ascoli per ascoltarti, non vengo da Sanremo per santificarti, io vengo da Chiavari! Io vengo sempre da Chiavari! Quindi abbiamo Sanremo per santificarti, una nuova, io non vengo da Sanremo per santificarti, non vengo da Lodi per lodarti, io vengo da Chiavari! E quindi una strategia è quella di toglierti la gratificazione, toglierti la Lodi, toglierti, non vengo da Sorso, toglierti la Lodi, toglierti la Lodi, salutiamo Lovely Sara Staro, non vengo da Pizzo per parcheggiare! Questo è un altro punto fondamentale, quindi poi abbiamo il rinforzo a scala variabile, cioè dove le ricompense variano in termini di valore, in termini di frequenza e a volte offrono grandi ricompense, a volte offrono solo piccole losing! E poi abbiamo il rinforzo a scalata fissa, il rinforzo a scalata fissa è interessante dove le ricompense sono date solo dopo un certo numero di comportamenti desiderati, quindi non basta che ti lodano una volta dopo che hai fatto una certa cosa per diverse volte. E poi abbiamo il rinforzo casuale dove invece le ricompense sono date senza un modello specifico in modo totalmente casuale. Quindi avete visto che anche con il rinforzo intermittente ci sono al suo interno 5 tecniche manipolative che sono fondamentali. Quindi tu devi analizzare, devi osservare i modelli comportamentali, devi prendere nota, devi analizzare le motivazioni, devi stabilire dei limiti sani, devi essere consapevole anche delle tue reazioni, devi saper manipolare e devi saper riconoscere le strategie degli altri e mettere un like al video se il video è iniziato.